Eccoci, oggi siamo qua, Omar riprendi, siamo in cima alla panna di Corfino, nei monti adescenti, la panna di Corfino è laggiù in fondo, guardate cosa ho trovato qua, sono venuto a cercare la fiorita, la fiorita delle peonie, guardate che bellezza, guardate qua, eccola qui la fiorita delle peonie, ora ve lo faccio vedere in particolare, attenzione Omar, riprendi, le prime telecamere al mondo che hanno avuto un permesso speciale. Omar riprendi, guarda che bellezza queste peonie, qui c'è la fiorita delle peonie, attenzione Omar riprendi, le prime telecamere al mondo che riprendono questa fiorita, guarda un vero giardino, qui fra le pietre la natura dà tutta la sua bellezza, Omar riprendi, guardate che spettacolo questi fiori, Omar abbiamo avuto un permesso speciale, le prime telecamere al mondo che riprendono questa bellezza, guardate quanta bellezza, guardate la, guardate la fiorita delle peonie sul monte Pania di Corfino, guardate, Omar riprendi, siamo le prime telecamere al mondo, guardate che bellezza le peonie, solo noi, i primi al mondo, abbiamo avuto un permesso speciale, guardate, qui ci sono le peonie sfiorite con le api che ci volano, guardate bellezza, attenzione Omar riprendi, siamo le prime telecamere al mondo che riprendono questa bellezza, le peonie della pane di Corfino, guardate che spettacolo, solo noi, i primi al mondo, le prime telecamere al mondo che hanno ripreso tutta questa bellezza, è impossibile descriverla, bisogna vederla, guardate bellezza tutte le peonie, siamo le prime telecamere al mondo che riprendono questa bellezza, e là giù in fondo se guardate le alpi apuvane, col gruppo delle panie, attenzione Omar, tutti vanno sul monte Croce a vedere la fiorita delle giunchiglie, ma guardate qui spettacolo, la fiorita delle peonie, fiori unici al mondo, guardate che bellezza, Omar riprendi, riprendi, siamo le prime telecamere al mondo a riprendere così tanta bellezza, guarda, guarda che spettacolo, questa fiorita è bellissima, gli unici fiori al mondo, eccoli qua, attenzione Omar, riprendi, siamo le prime telecamere al mondo a riprendere così tanta bellezza, abbiamo avuto un permesso speciale, Omar riprendi, che spettacolo queste peonie, siamo i primi al mondo a riprendere una fioritura del genere, mai nessuno è riuscito a scoprire una fioritura così, guardate bellezza, attenzione Omar, riprendi, guardate che spettacolo, che fioritura, bellissime queste peonie, Omar riprendi, siamo le prime telecamere al mondo che riprendono tutta questa bellezza, e laggiù abbiamo l'appennino, guardatela, qui è una bellezza, a 360 gradi, Omar riprendi, guarda bellezza, siamo le prime telecamere al mondo a riprendere tutto questo, siamo gli unici, abbiamo avuto un permesso speciale, Omar riprendi, le prime telecamere al mondo che hanno ripreso tutta questa bellezza.